Oh scusi, no Presidente, Sintago, scusi, scusi, come sai? Oh, è più bello prima, è più bello prima, adesso più bello, adesso più bello. A tutto il sapore di una rimpatriata tra vecchi amici, un abbraccio sincero con il suo ex presidente Sergio Giordani, ora sindaco, e poi una visita privata alla Cappella degli Scrovegni, ma l'abbraccio più caloroso a Lexi Lalas l'ha ricevuto allo storico stadio a piani dai tifosi arrivati in centinaia per salutarlo. È venuto ospite con le sue compagne nel mio club, abbiamo chiacchierato un bel po', ci siamo divertiti tanto, è una persona veramente simpaticissima. Torniamo ragazzi praticamente, siamo venuti a vedere una persona che ha scritto una parte di storia importante del calcio Padova. Sono venuto per vedere Lalas perché mi ricordo che è stato il primo americano a venire a giocare in Serie A col Padova e che è stata una persona seria. Anche se bene era un po' spavaldo, era bellissimo sentirlo vedere con le sue spavalderie, con la chitarra. Lui dice, matto come allora, si capisce vero? Ci sono molti ex compagni, Longhi, Gabrielli, Pippo Maniero che ricorda quella volta in cui Lalas, arrabbiato per un riprovero di Mr. Sandreani, tornò da Bresseo a piedi. Praticamente la strada che da Bresseo va verso Abano, lui l'ha fatta a piedi, con scarpe da calcio. Si era arrabbiato perché aveva perso la partitella? Si, in una partitina ha perso o stava perdendo o il Mr. l'ha rimproverato, adesso non ricordo bene il motivo. Lui ha preso e è andato via, ma tutti noi pensavamo se ne andassi in un spogliatoio a fare la doccia. Invece ha lasciato la tutto e è andato a casa. Un personaggio Lalas, umile, simpatico, stravagante ma concreto in campo. Abbiamo vinto, abbiamo perso, però per me ho cresciuto come un giocatore, però più importante per me è che ho cresciuto come un uomo. La sua giornata padovana, ricca di emozioni, si conclude con un regalo, le maglie storiche per tutta la famiglia, ma Lalas, eclettico, artista non solo in campo, vuole salutare i biancoscudati con un'altra sua passione, quella per la musica.